Prestazioni d'applausi per la rappresentativa dell'Università della Calabria che dal 30 agosto al 2 settembre 2023 a Perugia ha sfidato altri 20 atenei provenienti da ogni regione d'Italia nei campionati nazionali di tennis Anciu. Il circolo ricreativo dell'Unical è riuscito a piazzare ben 4 squadre in finale, una per ciascun tabellone presente, assoluti maschili, femminili, over 50 e over 60. Nel tabellone femminile assoluto, torneo con un più alto numero di squadre partecipanti, le tenniste Cosentina Albertagiello, Liliana Martirano e Assunta Venneri, campionesse in carica, hanno confermato il loro talento e la loro forza, effettuando un percorso netto vincendo tutti gli incontri per 3-0 e triunfando in finale contro la storica avversaria di Bologna. Nella categoria over 60, la sua prima edizione, l'Unical è salita in cima al podio con il rettore, Nicola Leone e i suoi colleghi Massimo Fragola, Nicola Silvestri e Antonio Scatena. In una competizione molto intensa, la nostra squadra ha conquistato l'oro sconfiggendo in finale l'Università di Salerno con un punteggio di due incontri ad uno. Il capitano dell'Unical, il magnifico Leone, ha trascinato la squadra vincendo tutti e cinque gli incontri disputati, sia da singolare che di doppio. Molto competitivi, come sempre, i tabelloni degli assoluti maschili. Nonostante la concorrenza fosse agguerrita, gli atleti Unical, Stefano Aiello, Rocco Amato e Alessandro Cozza, hanno ottenuto un meritato secondo posto, alle spalle dei padroni di casa di Perugia. Nella categoria over 50, invece, Nicola Folino, Antonio Mangione e Giuseppe Pellegrino hanno ottenuto un altro prestigiosissimo secondo posto, dietro i fortissimi over di Bologna. Ma il successo più importante è arrivato nella speciale classifica delle università che tiene conto dei risultati ottenuti in tutte le categorie. L'Unical l'ha riconquistato, dopo averla sfiorata nelle precedenti edizioni, la Coppa che inseguiva dal 2018. Altro successo importante da rimarcare è stata la vittoria della Coppa dei Campioni, l'incontro di doppio misto che si è disputata tra i vincitori degli assoluti maschili e femminili delle precedenti edizioni. Questa competizione è al marchio Unical. In cinque edizioni su sei la Coppa è stata vinta dai tennisti calabresi. I nostri risultati, ha commentato soddisfatto il rettore Nicola Leone, sono stati straordinari. Grazie.